Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. Difficile non essere d'accordo con Alessandro Orsini sulle sue posizioni di critica all'imperialismo di Washington. Recentemente Alessandro Orsini ha scritto un magistrale articolo sul Fatto Quatidiano in cui adombra l'inadeguatezza di Stoltenberg, un nome programmatico. Come sapete Stoltenberg è attualmente il segretario della Nato e Alessandro Orsini abendonde dal dire che è del tutto inadeguato e che sta generando solo caos. Del resto Stoltenberg ha detto nei giorni scorsi che occorre che la Nato attacchi o meglio contrattacchi la Russia per difendersi. Ecco siamo in un regime orwelliano in cui l'attacco è difesa e la guerra è pace e Orsini dice giustamente che Stoltenberg è inadeguato e ha ragione su tutto il fronte. Resta da chiedersi perché Stoltenberg agisca così, forse per avere un rinnovo di mandato, ipotesi, forse perché di fatto sta realizzando il piano già noto a mio giudizio, cioè il fatto che l'Occidente a trazione atlantista vuole a tutti i costi la guerra con la Russia e ha utilizzato finora l'Ucraina semplicemente come casus belli e come bastone per cagionare questa guerra. Sia quel che sia ha ragione Orsini, Stoltenberg è inadeguato ma mi permetto di estendere il discorso dicendo che la Nato è del tutto inadeguata e andrebbe immediatamente sciolta o se non la si può sciogliere occorrerebbe che l'Italia uscisse il prima possibile.